Al suo interno sono presenti i lacerti dell'antica decorazione ad affresco trequattrocentesca. Al suo interno sono presenti i lacerti dell'antica decorazione ad affresco trequattrocentesca. L'antica decorazione ad affresco raffigura la Madonna del Latte, opera quattrocentesca, la Vergine raffigurata nell'atto di allattare il bambino. Vi sono delle aggiunte successive, secentesche, Dio Padre nella parte superiore, Santa Lucia e Santa Agata e due angeli che incoronano la Vergine. Grazie per la visione!